15 aprile 2010 Liga Bue Day, per la prima volta al cinema Trimile emozioni del concerto inedito Stadio Olimpico di Roma del 2008 Aspettando il nuovo tour negli stadi 2010 Senti Liga Bue che racconta in diretta via satellite la sua ultima volta all'Olimpico Ascolta in anteprima il primo singolo del suo nuovo album Liga Bue Day, solo per un giorno, solo al cinema In proiezione digitale 2K ed audio Dolby Digital 5.1 L'appuntamento è il 15 aprile alle 21 Prenota subito il tuo posto nel cinema più vicino Nexo Digital, intrattenimento alla massima potenza Grazie